Lucrezia è il simbolo della donna diabolica, bella, attraente e perversa. Lucrezia colleziona tre mariti e innumerevoli amanti e tutti, stranamente, escono di scena in circostanze violente o misteriose. All'età di 11 anni era già stata promessa in moglie due volte, ma in entrambi i casi il padre, il padrone e il fontefice, ruppi fidanzamenti pensando di poter ricavare di più dal matrimonio combinato con il nobile italiano Giovanni Sforza, signore di Pesaro. Il loro matrimonio durò però solo quattro mesi, poiché il papa, intravedendo nuovi benefici, pensò di allearsi con il re di Napoli per mezzo di Lucrezia. Decise dunque di sciogliere il loro matrimonio, accusando Giovanni di impotenza. Egli dichiarò la falsità dell'accusa, d'altronto la sua prima moglie era morta di parto. Allora i borgi all'esortarono a provare la sua virilità, cosa che lui si rifiutò di fare. Lucrezia, sebbene apparentemente innamorata del marito, decise di non opporsi a queste macchinazioni. Per quale motivo? Forse per paura di padre e fratello? Oppure di comune accordo con loro? Resta il fatto che lo Sforza fu costretto a firmare una confessione di impotenza e il matrimonio fu dichiarato nullo. Pare che lo Sforza, umiliato dai borgia, abbia dato origine alle voci riguardo un presunto incesto di Lucrezia con padre e fratello. Anche se tali voci decaddero, i detrattori del papa fecero di tutto per darvi importanza negli ambienti più prestigiosi dell'epoca. Se Giovanni Sforza ebbe salva la vita, la stessa sorte non toccò al secondo marito, Alfonso d'Aragona, per il quale Lucrezia nutriva sincero amore e con il quale si sposò all'età di 18 anni. Un'alleanza di ferro, ma presso il papa sembrò cambiare politica. Il genero cominciò allora a non sentirsi più tanto tranquillo. Il pontefice aveva infatti poca stimia di lui, tanto che concesse a Lucrezia, e non a lui, il governo di Spoleto, in carico generalmente affidato ai cardinali e agli alti prelati. Lucrezia, malgrado i suoi 19 anni, sembra che amministrò con saggezza e diligenza. Nel frattempo, l'alleanza con Napoli era definitivamente conclusa in favore di nuove trattative con la Francia. Alfonso fuggì da Roma temendo per la propria vita, ma durante una visita alla moglie, venne assalito da un gruppo di sicari e pugnalato. Nonostante la gravità delle ferite, riuscì a guarire grazie alle cure di Lucrezia. Il sospettato principale fu subito Cesare Borgia, il quale pare pronunciò la frase «Ciò che non è stato compiuto a pranzo può essere fatto a cena». Poco dopo, infatti, il principe fu misteriosamente strangolato nel suo letto, probabilmente a opera di Micheletto, uomo di fiducia di Cesare Borgia. Morto Alfonso d'Aragona, a Lucrezia venne chiesto di sposare Alfonso d'Este, erede del ducato di Ferrara e Modena. Così, a 22 anni, Lucrezia entra a Ferrara con la terribile fama di figlia, moglie e nuora del Papa Alessandro VI. Il futuro marito aveva letteralmente ceduto alle pressioni del padre per accettare questo matrimonio con Lucrezia, per chiarissime ragioni di Stato. A Ferrara, Lucrezia visse 17 anni, amata dal marito e dai figli e ben voluta dai sudditi. La sua condotta fu molto più tranquilla rispetto agli anni romani. Dunque, si può dire che la lontananza da Roma e dal padre le abbia giovato. Nel 1503, Papa Borgia e il figlio Cesare vennero avvelenati contemporaneamente. Il Papa morì, Cesare sopravvisse per altri quattro anni. Del colpevole non si sa nulla. Ma se fosse stata Lucrezia? Stufa del controllo esercitato dai familiari su di lei, potrebbe essere coinvolta nella loro morte? Numerose voci affermano infatti che Lucrezia possedesse un misterioso anello cavo, contenente all'interno un veleno da lei inventato, forse una variante della cantarella romana, e con il quale avvelenava le bevande. Pare che si servisse di esso per eliminare i suoi molteplici amanti. Allora perché non anche padre e fratello? Il tempo alla Corte d'Este l'aiutò a rifarsi dalle accuse passate, a trovare apprezzamento e rispetto attraverso il suo mecenatismo, grazie anche a una vita più morigerata. Da sempre è dipinta come una donna affascinante e astuta, complice degli intrighi della Corte papale, ammirata e temuta allo stesso tempo, abile politica e a corta diplomatica, pericolosa abvelenatrice di amanti, depravata e corrotta. Ma è stata più vittima o carnefice? Lucrezia è stata un mostro di crudeltà e inganno, o semplicemente la vittima di una stampa sfavorevole? Viene dipinta con questo ruolo, recitato in molte opere d'arte, anche se di questa misteriosa donna non si conosce alcun ritratto autentico. Si dice che fosse una donna di straordinaria bellezza, dalla pelle bianchissima e con occhi azzurri che risaltavano tra i capelli biondi, i quali pare abbiano ispirato le oggi note tagliatelle. Alcuni ritengono le vicende amorose della Borgia una conferma della sua natura effervescente e incontenibile. altri la dipingono come una muse ispiratrice di Ferrara. Noi riteniamo che adesso è stata una donna che ha cercato di vivere liberamente la propria vita, nonostante quell'obbligo di forma impostale dal padre e che alla fine sia riuscita a farsi rispettare a benvolere dal popolo. Alcuni ritengono le vicende amorose della Borgia Grazie a tutti.